Ciao a tutti ragazzi, sono PeppeggioGamers e siamo su Breaking Retribution E ragazzi, ho deciso di cominciare questo nuovo gioco, ma non a serie Ma l'ho deciso di cominciare così, cioè farò di video E' un gioco in prima persona, come tutti gli altri E ogni giorno ci sono varie modalità, per esempio un giorno c'è la modalità contro i zombie Un altro giorno c'è la modalità, per esempio la squadra e un altro giorno la bandiera, un altro giorno, vado in modalità Poi, incominciamolo in la nostra modalità Allora, l'uscita è partita Ci metterà un pochino di tempo Il danno ragazzi, io non so come cavolo può tagliare i soldi, cioè Guardate, c'è Sono di martello da spoglamento Che costa 40 secondi Un milione e qualcosa E non so come cavolo fa di soldi, cioè Impossibile Impossibile fare i soldi Non mi ricordo Ecco qui Cioè, guardate Cioè Tutto a poco Io non posso Comprare Peccato Intanto Forse che ce la facciamo Ok, Bletting Questa è un gioco molto bello Io ve lo consiglio C'è Chi ha la Playstation 4 C'è anche gratis Infatti L'ho preso gratis Riscatto Con codice Rimpostazioni Gioco Impostazioni Gioco Va bene Comandi Va bene Generale Va bene Va bene E' cominciare la nostra partita Bellissimo E' cominciare Io ragazzi In questo gioco Faccio Moltissimi Fail Ma di fail Le faccio La miseria Oh L'ho legata la bomba Tipo Questo Fail Cioè Lo beccito solo io Oh Vedo Tenta Il mio corpo L'ho legata E' l'ho legata E' l'ho legata Come si diceva Tengo anche Il risultato Per esempio Per dire I relisi Si trovano Qui c'è uno Facciamo la piaccia di rimbora Ah guarda qui Guarda qui Guarda qui Scappa Scappa Io sono debolissimo Guarda lo stesso gioco Adesso Adesso Torni con te Peccato Oh Attenzione Che abbiamo Il cerchio Che cazzo Ah si Gesso La roba E' pratica Una granata Che ci fa Torni con Il cazzo Non lo so Che abbiamo Il cerchio E' ci uccidano Che fello Assurdo Eh si Vabbè Con questa armatura E' la Papiglia Cioè Non si Cerca Allora Vediamo Uno Che c'è Dice Qui Davanti Che L'angeremo La bella Granata Ok Botto Allora Facciamo Che si Lo uccidiamo Questo Qui Uccidiamo Oh Granati Da Libore No No S'hanno uccidito Così Vabbè Divertendo Sicile Questo Ma oggi I server Della PlayStation Stanno Raggando Boh O forse Oggi Che quasi Tutti Arrido Ma dove In questo Giordino Tutto Perché Tutti Tutti Tutto E Sì C'è Un legito Che Della nostra Parte Ma dai No È Impossibile Un Stato Lì L'abbiamo Perimilato Con una granatella Facciamo Saperlo Oggi La potenza Uccisore Confermata Se L'avete Notato Infatti Dove Dobbiamo Passare Un Lerico Per Confermare L'uccisione E una volta Che abbiamo Confermato L'Uccisore Lerico Non potrà Più Spolare Pugli Se Esce Dal Pugli Dal Pugli Sparare Pugli Allora Pugli 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 No Pugli 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 Non lo facciamo Più Sparare A Lui Pugli Pugli Ci sono Confermata Perché Lavoro Questo Sulle Pagli Questo Entra Un Pagli Di Questa Passare De Mori Uno E Quell'altro Cioè 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 Non lo facciamo Mare Persone Oh Cavolo Siamo Stramico Ok Ci sono Le Torni E Anche Il Contale In futuro Concentriamoci Più Sopra per i giorni non facciamo la decisione ora adesso no 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 attenzione attenzione qui a ok lo so un amico ci ha legato non ci sono grazie allora continuiamo a fare gli accessi in speed qui sopra ragazzi intanto prima ho cercato di fare come è successo ah, ho cercato di fare il video su accessi in speed, io ripeterò purtroppo non ci sono riuscito perchè si diceva essere tutto bambino niente qui abbiamo il nostro deposito e va è quello qui, bellissimo adesso levatevi di mezzo che mi facciamo tutti fuori uuuu vediamo le nostre incisioni televisi uuuu 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 attenzione ce l'ho peccato adoro passi nostro lancerazzi peccato uuuu 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 uuuò non posso muoverti amico vediamolo vai ti seguo vai vai ci separiamo vediamo se io lo posso prendere no purtroppo no vittoria vittoria raga vinciamo allora questo qui con la che ha fatto terzo posto che mi stima questo piano è un modder e ragazzi modder sono così modder sono modder non lasciamo riprendere comunque ragazzi non lasciamo anche il video però anche è una verità parte del prossimo video cioè della prossima vediamo un po' che cosa abbiamo sbloccato qui un corno ok se continuavo la partita forse ci piacerebbe comunque raga erano solo 4 minuti voglio cominciare con voi questa parte 2 della seconda partita della partita vabbè raga vedo che nessuno entra ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale fatemi vedere la vostra grinta il canale per portarlo avanti sempre di più facciamelo crescere facciamelo crescere e riuscite anche un commento ripeto un like e ragazzi ci vediamo al prossimo video video No!